musica adesso vi mostrerò perché ci ciughe in mezzo alla morte mi raccomando raga lasciate un like, condividete il video e commentate per farmi sapere se il video è finito ragazzi non morite, carrizzate, fa molto ridere ma non morite, mi raccomando, banno buona ragazzi siamo qui da PR10 car, xx50 e la ragazza che ci passa è sempre una scontissima xx50 sky è uscita dalla storia di video che vuole rimanere a 100 iscritti prima di cominciare a fare video quindi è scontissima di ciao ciao sì lasciate tante like mi hai spesso come posso? commentate ah salta ai io lo so ok ragazzi suga 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 e voglio musica guanjami eii eii non basta non basta non basta non basta non basta aggett ottaccare non puole non panni che cosa senti priore ent a pengarschi ovavia Vamona! Alta! Perché è buona tua? Tip, 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 tip! Tip, 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 tip! Tip, 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 tip! Chirurghè! 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 Alleluia! Chirurghè! Chirurghè! Alleluia! Chirurghè! Chirurghè! Ok, ammig hasto! Chirurghè è l'ultimo! ce l'abbiamo fatta ragazzi oh vlogger vlogger ragazzi oh no sai che io vlogger 10 tale fare un canale scendere sto fatta se non è che si stava è sempre un po' di guarda 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 Manda a me! è meglio di testa e poi è in misura che l'ha fatto un altro passiamo sentiamo sentiamo i 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